A Pescara un servizio di bus navetta al cimitero di Colli Madonna allo scopo di superare l'atavico problema della mancanza di parcheggi nei giorni di maggiore affluenza dedicati all'omaggio ai defunti. L'iniziativa è stata presentata questa mattina dall'assessore ai cimiteri Maria Rita Carota e alla viabilità e ai trasporti Luigi Albore Mascia. Per gli utenti servizio totalmente gratuito. Garantiamo 33 corse giornaliere dalle 9 alle 17 continuativamente con un percorso anulare che parte dal parcheggio di via di sotto dal parcheggio a ridosso del supermercato Conad e attraverso salita Tiberi, strada Pandolfi, via Colle di Mezzo raggiunge i nostri due ingressi del cimitero di Colle Madonna e poi compie il percorso a ritroso. Agevolando quindi l'utenza che vorrà utilizzarla, pensiamo a quella degli anziani, ringrazio la tua per la preziosa collaborazione. Un'opportunità che viene messa a disposizione dei cittadini di non utilizzare l'automobile, di poter lasciare l'automobile in un parcheggio di scambio perché di fatto diventa quel parcheggio pubblico un parcheggio di scambio e poter comodamente raggiungere i propri cari estinti. Sarà dunque rilanciato il servizio navetta già sperimentato con risultati più che lusinghieri in estate. Quattro giorni dal 29 ottobre al primo novembre. In totale 33 corse giornaliere, la prima alle 9 del mattino, l'ultima alle 17 per un investimento di poco meno di 2000 euro. Il consigliere comunale Alessio Di Pasquale. Sì, siamo partiti quest'estate con la sperimentazione del bus navetta che ha portato le persone dei colli al mare con una vera sostenibilità del trasporto pubblico e oggi continuiamo con un servizio che partirà dal piazzale della Conad e porterà le persone al cimitero, un servizio gratuito. Questa è un'iniziativa sostanzialmente congiunta per andare incontro alle esigenze proprio degli utenti. Sì, anche delle persone meno abili, anche per le persone anziane che comunque hanno un po' di difficoltà ad arrivare magari a piedi perché non trovano posto vicino al cimitero. Penso che sia utile, spero che lo sia, vedremo i risultati ma io penso che questa è un'iniziativa veramente ottima.